Mentre le NBA Finals si avvicinano a grandi passi, soffermiamoci ancora qualche minuto sulle squadre eliminate a secondo turno playoff. Questa è la quarta e penultima parte delle pagelle NBA 2022-23. Golden State Warriors, voto 5. Se il titolo vinto l'anno scorso aveva chiuso un cerchio, riportando gli Warriors sul trono NBA dopo due stagioni buie, questo 2022-23 potrebbe aver chiuso un'epoca nella Bay Area. Già principalmente a questioni salariali. Le ricche estensioni firmate da Andrew Wiggins e Jordan Poole hanno confiato a dismisura il monte stipendi e di conseguenza il conto della luxury tax. Allo stesso tempo, i mancati accordi con il general manager Bob Myers, con Clay Thompson e con Draymond Green hanno addensato le nubi sul futuro della franchigia e hanno fatto lievitare la tensione, sfociata nel fatidico pugno sferrato da Green a Poole durante un allenamento. I campioni in carica hanno vissuto una regola season bipolare. Al Chase Center si è vista per lunghi tratti la solita e inarrestabile macchina da pallacanestro. In trasferta una squadra molle e senza anima, capace di vincere appena 11 delle 41 partite disputate. Coach Steve Kerr aspettava risposte importanti da parte del nucleo giovane, chiamato a portare avanti la tradizione vincente, ma ha ricevuto più delusioni che conferme. Jordan Poole ha alternato qualche ottima performance a troppi passaggi a vuoto, specialmente durante i playoff. Jonathan Coming e Moses Moody non hanno mostrato i progressi di cui sembravano capaci e sono finiti a più riprese fuori dalle rotazioni. James Wiseman è stato bocciato su tutta la linea e dopo aver assaggiato anche la G League è stato scaricato a Detroit in cambio di un mucchio di seconde scelte. L'incostanza di Klay Thompson, i problemi familiari che hanno tenuto fuori a lungo Andrew Wiggins e l'infortunio alla gamba che ha costato un mese di stop a Stephen Curry hanno complicato ulteriormente le cose, impedendo agli Warriors di andare oltre un mediocre sesto posto. La maggiore esperienza e il dominio al rimbalzo di Kemon Looney e la classe di Steph, autore di 50 punti in una leggendaria gara 7, hanno permesso a Golden State di sbarazzarsi dai giovani Sacramento Kings, ma contro i più navigati Los Angeles Lakers sono emerse tutte le lacune di un gruppo arrivato forse a fine ciclo. New York Knicks, voto 7. Sulla carta, quella a disposizione di Tom Thibodeau era un roster mediocre, destinata a una stagione altrettanto mediocre. A conti fatti, quella del 2022-23 si è invece rivelata la miglior versione dei Knicks da dieci anni a questa parte. Il principale rinforzo estivo, Jalen Brunson, ha subito preso le redini della squadra, sfiorando l'All-Star Game a suon di prestazione attisonanti. Al suo fianco, Julius Randle è tornato quello del 2021, guadagnandosi una nuova chiamata fra le stelle e l'inclusione nel terzo quintetto All-NBA. Arjay Barrett e Mitchell Robinson hanno finalmente mostrato segnali di crescita. Emmanuel Quickley è emerso tra le migliori riserve dell'intera Lega. Quentin Grimes ha scalato rapidamente le gerarchie, affermandosi come guardia titolare di postibodo, e Josh Hart, arrivato a febbraio da Portland, si è imposto subito fra i leader tecnici ed emotivi del gruppo. La magia è continuata al primo turno playoff, quando New York ha demolito i Cleveland Cavaliers nel tripudio del Madison Square Garden, ma si è interrotta bruscamente nella serie contro Miami, in cui l'aggressività e l'organizzazione di Jimmy Butler e compagni hanno lasciato i Knicks a bordo strada, col motore in panne. La nuova off-season si apre con il solito dilemma, lasciare la squadra com'è, sperando in un'ulteriore crescita dei suoi uomini di punta, o investire numerosi asset accumulati per arrivare a un grande nome. Philadelphia 76ers, voto 5. Non è un'insufficienza più grave per due motivi, perché l'eliminazione è arrivata in gara 7 del secondo turno playoff contro una delle grandi favorite al titolo e per una buonissima regola off-season disputata dagli uomini di Doc Rivers. Una regola off-season dominata da Joel Embiid, eletto per la prima volta MVP dopo aver messo a referto le migliori cifre in carriera. Una regola off-season in cui James Harden ha guidato la classifica degli assist, come già accaduto nel 2016-17, e ha mostrato a sprazzi la miglior versione di se stesso. Una regola off-season in cui Taris Maxey, al suo terzo anno da professionista, ha scollinato per la prima volta oltre 20 punti di media, promettendo di giocare un ruolo da protagonista nella squadra che verrà. Ai playoff, però, sono tornati i vecchi fantasmi. Dopo aver passeggiato contro una versione sperimentale dei Brooklyn Nets, Philadelphia ha sprecato una clamorosa occasione contro i Boston Celtics. In vantaggio 3-2, i Sixers non sono riusciti a chiudere i conti sul parquet di casa, nonostante un Jason Tatum irriconoscibile per tre quarti di gara 6. Nell'incontro decisivo, il TD Garden si sono sciolti completamente, trascinati nell'abisso dalle pessime prestazioni di Embiid e Harden. Anche quest'anno niente titolo, anche quest'anno niente finale di conference. Il tempo passa, le scuse e i colpevoli si accumulano. Quest'anno è toccato a coach Rivers, esonerato dopo l'ennesima eliminazione precoce, ma nell'off-season appena cominciata, si dovranno prendere molte decisioni delicate, partendo da quella sull'eventuale rinnovo di Harden. Phoenix Suns, voto 5,5. È difficile dare un giudizio esaustivo alla stagione dei Suns. L'eliminazione al secondo turno playoff, risultato identico a quello dell'anno scorso, fa prendere la bilancia verso il fallimento, ma la valutazione complessiva non può prescindere dall'operazione Kevin Durant, che ha cambiato drasticamente le prospettive a medio termine per la franchigia dell'Arizona. Fino a quel momento, i Suns sembravano finiti su un binario morto. Complice a un infortunio muscolare che ha tenuto il box Devin Booker per 21 partite, Phoenix era rimasta invischiata nella lotta per evitare il play-in. Lo scambio con i Brooklyn Nets, caldeggiato dal nuovo proprietario Matt Ishbia, ha proiettato la squadra di coach Monty Williams nel novelo delle favorite per il titolo. Approdotto nel deserto, Durant ha fatto subito digerire ai tifosi la separazione da Michael Bridges e Cam Johnson, ma si è dovuto fermare presto a causa di una distorsione al ginocchio. Phoenix è arrivata al playoff con il roster al completo e si è liberata facilmente dai rimaneggiati Los Angeles Clippers grazie alle sfuriate offensive di Durant e Booker. La serie successiva, contro Denver, ha però mostrato tutti i limiti di un gruppo che ha dovuto cambiare tanto e sacrificare profondità per assicurarsi al suo nuovo fuoriclasse. Le performance mostruose di Booker e il talento cristallino di KD non sono bastati contro i solidi e organizzati Nuggets. Le due star hanno avuto al loro fianco un supporto inchiesto non all'altezza, impoverito ulteriormente dal solito infortunio di Chris Paul e dalle deludenti prestazioni di Deandra Hayton, sempre più ai margini del progetto. Il primo a pagare per l'eliminazione subita è stato il coach Williams, esonerato senza troppi complimenti, ma è probabile che per puntare veramente al titolo e rimodellare una squadra competitiva attorno ai due fenomeni, i Suns debbano sbarazzarsi anche del centro Bahamense e dei CP3, che sembra giunto ormai a fine corsa. Queste erano le pagelle delle quattro squadre eliminate al secondo turno playoff. Nei commenti fateci sapere le vostre impressioni e i vostri voti. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.